Purtroppo in Italia con la quantità di persone che pattinano è più difficile che venga fuori il genio e il talento rispetto a nazioni come magari il Canada, la Russia, il Giappone dove c'è un tale pool di pattinatori tra i quali scegliere che se uno non va bene ce n'è subito pronto un altro, invece per noi è un po' più difficile.